Mi chiamo Beatrice Chierichetti, la nostra azienda è la BAG SPA, conosciuta con il marchio Nero Giardini. Siamo un'azienda italiana che produce scarpe di qualità da oltre 50 anni. È la prima volta che partecipiamo all'IMOD e siamo relativamente soddisfatti di questa partecipazione. Ci aspettavamo una maggiore presenza di buyer internazionali, non solo locali. Riteniamo che in questo momento particolare non sia proprio la fiera di riferimento per il nostro prodotto. Abbiamo comunque avuto dei nuovi contatti e confidiamo di poter sviluppare e di magari in un futuro avere una presenza maggiore in Turchia e nei mercati vicini.